Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare questa forma del crogiolo, la coda, come ho detto nel video precedente, per quelli che sono iscritti al canale e che hanno visto quel video della forma del crogiolo, le corna. Adesso vi faccio vedere quell'incantissimo che ho portato nel video precedente, ed eccolo qua. Allora, ma che cazzo fa sto coso? Eccolo qua, questo, ok? Quindi oggi vi porto in questo posto dove trovare questa forma del crogiolo, la coda. Quindi dirigetevi qua, questo è il famoso posto dove tutti iniziano a cazzeggiare, a livellare, a... a... che fare qua? Che fare? A cercare di uccidere quel gigante a livello 1, oddio eccolo. Già. Per quelli che sono già stati qua, in questa terra e che hanno ignorato questo posto, hanno proprio sbagliato del tutto, quella è la galera, ok? Quella è la galera, quindi entrate nella galera e all'interno troverete quel bastardo del crogiolo, con la spada, quello bello grosso, con le corna. Una volta ucciso vi darà la forma, questa qua, un attimo che la... la devo equipaggiare, vabbè la devo equipaggiare, mi serve un punto di grazia, vabbè. Comunque ragazzi, se volete anche l'altra forma del crogiolo, le corna, questa qui, guardatevi il video precedente e niente ragazzi, se il video vi è stato utilissimo, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Elden Ring. Ciao! Ciao!